Arnaldo Pomodoro fece la sfera grande in bronzo nel 1967, era poco più che quarantenne, per l'esposizione universale di Montreal. Poi l'opera fu trasferita a Roma e sta davanti all'ingresso del Ministero degli Esteri, poggiato meravigliosamente, tendo a dire, su una, apparentemente, su una vasca d'acqua, in realtà c'è un perno che la solleva di poco, e questo rapporto tra l'acqua e la grandiosità della sfera è davvero magnifico. È un'opera che vorrebbe onorare la gloria degli italiani nel mondo. E in effetti Pomodoro affermò che in qualche modo questa sfera, perfettamente liscia, che si rompe e lascia trasparire come fosse un melograno i semi che sono all'interno, è una grande metafora delle contraddizioni, delle lacerazioni, delle tensioni della storia.